Dicono che sono ricordi, schegge, fiato, rumori di passi sulle scale, cappelli che vorano come petali, ventaglie in festa, vestiti che aggiustano corpi, qualcosa che ha a che fare con l'abbraccio. Dicono che sono frammenti, immagini, danze, dicono danze, sequenze invisibili all'occhio umano, sequenze che ancorano al cielo. E invece, forse, è solo vuoto che si riempie con un battito che fa alfabeto del cuore, è cura, è segno, è silenzio piccolo, è preghiera elementare che dice, stai qui, non fiatare, arriva il buono. Sì, 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 stai qui, non fiatare. Sì, stai qui. 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 Sì, stai qui.